La formattazione condizionale è quello strumento che ti permette di colorare le celle secondo dei criteri che stabilisci tu. Siccome i colori aiutano a processare meglio le informazioni, possiamo sfruttarli soprattutto quando la mole di dati è elevata. In questo esempio c'è una colonna con all'interno solo l'informazione di essere ricco o povero. Voglio colorare di rosso i poveri e di verdi e ricchi. I dati sono pochi ma immagina se fossero migliaia di righe e decine di colonne. Con questo sistema riusciresti a orientarti meglio. Seleziona le celle della colonna I e dalla scheda Home scegli Formattazione condizionale. Seleziona Gestisci regole e schiaccia il tasto più. Ti compare questa schermata dove nel menu a tendina hai diverse opzioni ma nella maggior parte dei casi ti consiglio di scegliere classico. Ora dal secondo menu a tendina scegli Formatta solo le celle che contengono. Di default poi c'è già ciò che ti serve ovvero testo specifico e contiene ma è ovvio che le opzioni a tua disposizione sono parecchie e in base allo scopo cambierai la tua scelta. Ora qui vai a inserire povero ed entra nel formato personalizzato di modo che puoi scegliere come colore di sfondo il rosso e magari come carattere il colore bianco. Se dai ok vedi che Excel ti propone un'anteprima. Se non ti piace torni indietro e cambi. Dando nuovamento ok torni alla schermata principale e siccome ti manca la colorazione dei ricchi ripeti la stessa procedura cambiando quello che serve. Quindi schiaccia più, scegli classico, seleziona Formatta solo le celle che contengono. Questa volta il testo specifico deve essere ricco e nel formato personalizzato scegli sempre carattere bianco ma questa volta cambi lo sfondo in verde. Ora dai ok e adesso la procedura è finita quindi se clicchi su ok vedrai che le celle si sono colorate di rosso per i poveri e di verde per i ricchi. Ora ti mostro una seconda cosa che puoi fare con la formatazione condizionale ovvero graficizzare l'interno delle celle. Stavolta prendi una colonna con dei numeri come per esempio quella degli euro. Entra in formatazione condizionale, gestisci regole, più e questa volta anziché scegliere classico seleziona Barra dei dati. Di default hai già tutto a meno che tu voglia personalizzare ulteriormente le caratteristiche come per esempio cambiando il colore. Se schiacci ok vedrai che l'interno delle celle ti si è colorato a seconda dei valori numerici presenti. La barra più lunga sarà quella del massimo valore presente ovvero 300 mentre quella più piccola del minimo di 70. Questa opzione ti dà immediatamente un ordine di grandezza dei numeri contenuti nella colonna.